Davide Caparini, la Lega Nord è soddisfatta per quanto la Camera dei Deputati ha deciso sul taglio dei costi della politica? Beh, è un buon inizio, però c'è tantissimo da fare e adesso verifichiamo se alla volontà poi corrispondono le azioni necessarie, nel senso che c'è tanta carne a fuoco perché sono tante le cose che bisogna tagliare e dobbiamo vedere se hanno il coraggio di farle. Allora, quali le battaglie della Lega Nord che sono state accolte dalla Camera dei Deputati? Beh, prima di tutto non esistono più gli intaccabili, nel senso che finalmente abbiamo messo in discussione il mega stipendio del segretario generale che è 3-4 volte superiore a quello del Presidente della Camera, quindi grida vendetta e in più abbiamo anche ottenuto che finalmente vengono riviste le missioni della Camera dei Deputati perché sappiamo benissimo che la Camera non è né un auditorium, né un centro congressi e nemmeno una fiera, quindi non ci devono essere concerti, mostre, eventi che nulla hanno a che fare con la missione che è quella di fare delle leggi. Però purtroppo tutte queste cose costano, costano molte di più se poi vengono fatte all'interno della Camera perché abbiamo stimato che la Camera quando viene aperta per questi tipi di manifestazioni costa almeno 700.000 euro al giorno. Quindi dobbiamo partire da lì, da questi tipi di tagli che sono strutturali, perché abbiamo quantificato che solo in questo modo possiamo raggiungere un vero obiettivo di economia, ovvero arrivare almeno al 30% della riduzione dei costi, bene gli tagli degli stipendi, auto blu e quant'altro, molto è già stato fatto, però queste misure, che se ne dica, purtroppo sono marginali rispetto ai costi totali della pubblica amministrazione e in particolare la Camera dei Deputati. Lei ha detto che purtroppo c'è ancora tanto da fare, ad esempio cosa? Ricollocare il personale perché ci sono oltre 1.500 dipendenti, in pochi fanno dei lavori molto qualificati, utilissimi, in tanti invece svolgono delle mansioni che sono anacronistiche, ormai superate abbondantemente dal tempo, non necessarie e quindi dovrebbero essere dirottate a trover.